Campi Flegrei, l'ambito è quello sismico perché anche se non può essere del tutto esclusa non ci sono evidenze di una possibile eruzione. Presumiamo che non ci possano essere terremoti di magnitudo maggiore di 4.5, massimo 5, ma anche un terremoto di magnitudo 5 in quella zona, siccome è molto superficiale, darebbe degli scuotimenti importanti.